buonasera a tutti oggi faccio questo video per rispondere a una ragazza sarà che mi ha chiesto allora in realtà lei mi ha chiesto se esiste l'olio di cipresso e io risposto certo che esiste tra l'altro è uno degli oli meno conosciuti ma molto molto potenti a cosa serve l'olio essenziale di cipresso l'olio essenziale di cipresso anche lui è un olio estratto freddo a cosa serve innanzitutto è un potentissimo lenitivo il è un calmante l'olio essenziale di cipresso usato in aromaterapia e l'aromaterapia può essere fatta semplicemente usando la boccettina oppure messo nel nel diffusore a ultrasuoni apro e chiudo parentesi sconsiglio sempre di usare i diffusori quelli con le candeline perché con la temperatura gli oli essenziali perdono gran parte della loro efficacia quindi tornando all'olio essenziale di cipresso è un lenitivo un calmante vi aiuta proprio a calmare la mente quando la mente è affollata tante voci tante cose tanti pensieri ecco l'olio essenziale di cipresso è molto potente in questo senso a funzionare da proprio da calmante inoltre un'altra proprietà importante dell'olio essenziale di cipresso è il fatto che aiuta a liberare le vie respiratorie quindi quando fate una miscela o mettete nel diffusore altri oli indicati proprio per raffreddore sinusite eccetera mettete sempre anche qualche goccia di olio essenziale di cipresso perché per esempio è molto attivo sul sul riflesso della tosse quindi aiuta a a calmare anche qui l'effetto calmante anche quando abbiamo il riflesso della tosse per il cataro ci saranno altre cose ma proprio sulla sulla tosse quella tosse persistente che aiuterà a calmarla essendo un lenitivo ha anche due effetti importanti che riesce a decontratturare in un ambito molto specifico per esempio per le per le donne quando hanno i dolori crampi addominali per esempio in concomitanza del ciclo si mette l'olio di cipresso in un pochettino di olio vettore vi ricordo che gli oli essenziali poi quelli di doterra essendo molto molto puri molto concentrati vanno assolutamente diluiti e assolutamente sono molto potenti quindi ne basterà una goccia per per effettuare il vostro massaggio dicevo per per i crampi addominali un massaggio fatto direttamente sulla pancia vi aiuterà sicuramente a calmare i crampi addominali poi essendo un potente lenitivo va anche bene per i crampi dolore muscolari quelli da alta attività muscolare a concentrazione di attività muscolare quindi sulla zona interessata dal crampo dal dolore muscolare fate un bel massaggio un automassaggio con appunto l'olio essenziale di cipresso miscelato a un olio vettore per le dosi secondo me è meglio che chiedete a secondo della vostra problematica ad un aromaterapeuta o a qualcuno di competente se volete scrivetemi in dm per sapere le dosi esatte meglio poco sempre diluito e come dico sempre fate sempre magari un piccolo test su un angolo di pelle si consiglia l'angolo del gomito per vedere se avete delle delle intolleranze o delle allergie personali con gli oli essenziali puri è abbastanza difficile però è meglio è meglio testare per oggi vi ringrazio e per qualsiasi cosa scrivetemi un messaggio in privato ciao ragazzi buona serata ciao ciao